parco rio collazzone ex lago le corone collazzone provincia di perugia primo scarico dell'anno ragazzi ci sono pesci fino a 8 kg già questi sono due quintali di pesce 100 giganti e 100 taglia normale apriamo sabato 5 ottobre sabato 5 ottobre alle sette apertura cancenti alle 7 e 30 si ferra sabato e domenica due prosciutto in palio domenica già trovate fino a otto chili saluta